Il noto centro balneare situato sulla costa tirrenica, a circa 30 chilometri da Roma, Reggene a partire dagli anni 1900, è una nota località turistico balneare frequentata da personalità del mondo dello spettacolo e della cultura. Dal 1992 è una frazione annessa al comune di Fiumicino, allora istituito con legge della Regione Lazio, a seguito del parere positivo ottenuto in un'apposita consultazione referendaria popolare che ne decise la separazione dal comune di Roma. I suoi inizi degli anni 1930 furono prettamente di élite, dato che poteva essere raggiunta solo con mezzi propri, allora a disposizione solo per le fasce più abbienti e l'unica corriera di pochi posti aveva due sole corse al giorno. In più, fino al 1968, per accedervi bisognava pagare un biglietto. Urbanisticamente, Reggene appare nettamente distinta in tre aree che si susseguono in direzione nord-sud lungo l'asse stradale centrale che scorre parallelo a lungomare a circa 600 metri dal Lido. Reggene nord, caratterizzata dalla presenza di ville quasi esclusivamente monofamiliari, circondate da grandi giardini e dalla quasi totale assenza di esercizi commerciali. Reggene centro, dove la dimensione dei lotti è mediamente meno ampia e sono presenti, oltre alle ville unifamiliari, anche ville bifamiliari e sporadicamente bassi edifici con più unità abitative e vi sono molti esercizi commerciali. Reggene sud, con una molto maggiore presenza rispetto a Reggene centro, di edifici con più unità abitative e con minore densità di esercizi commerciali. Nella parte più settentrionale di Reggene nord, a ridosso della spiaggia, sorge il caratteristico villaggio dei pescatori, nato spontaneamente con la costruzione di capanni direttamente sull'arenile da parte dei pescatori alla fine della Seconda Guerra Mondiale. A partire dagli anni Cinquanta, tale area è stata trasformata abusivamente con la realizzazione di villette e piccoli fabbricati costruiti in aderenza o molto a ridosso gli uni agli altri. Reggene giunse ad avere una significativa rilevanza in epoca etrusca, come sede di un porto, alla foce del fiume Arrone e di una importante salina. La sua memoria venne obliterata fino a quando cominciarono a svilupparsi insediamenti di pescatori nell'area dove essa sorgeva anticamente. Solo però intorno al 1928, appena terminata la bonifica della zona paludosa di Maccarese, che Reggene risorse come centro per residenze estive e balneari. Reggene, prima etrusca e poi romana, scompare alla soglia del 400 d.C. dietro l'incalzare della malaria, causa l'impalludamento del retroterra. La decadenza già era iniziata con l'insabbiamento del porto che gli etruschi avevano costruito sull'Arrone. La località deriva il suo nome molto probabilmente da Frango, con allusione al pericolo di andare a cozzare, navigando, su di solotti che erano sparsi in un'ampia laguna che raccoglieva le acque del Tevere e dell'Arrone. Altri invece tirano in ballo la friggia per un insediamento di mercanti originari della regione storica dell'Anatoria centro-orientale che con le loro navi facevano rotta verso la zona mineraria dell'isola d'Elba e che, procedendo sotto costa, avevano bisogno ogni tanto di un porto in cui rifugiarsi in caso di tempesta. Tra Fiumicino e Civitavecchia ce n'erano ben cinque di questi scali marittimi, compreso quello di Fregene. Circa la localizzazione della Fregene etrusca probabilmente bisogna risalire di qualche chilometro il corso dell'Arrone, tenuto conto che allora questo fiume era navigabile per un lungo tratto. Per quanto riguarda invece la Fregene romana, non c'è dubbio che si trovava nella zona di Maccarese, oggi denominata Primavera, dove sono stati trovati numerosi reperti e perfino una necropoli risalente al primo secolo dell'era volgare. Ma quando è che i romani decisero di trasferire una colonia a Fregene? Nel 245 a.C., vale a dire vent'anni dopo la Prima Guerra Punica. Sta di fatto che mentre per l'etrusca Veio, che aveva la giurisdizione su Fregene, l'interesse fosse di natura commerciale, in quanto sussisteva a Fregene un porto per l'esportazione nelle colonie greche dell'Italia meridionale del sale prodotto a Camposalino, per i romani l'obiettivo era di costituire un avamposto militare a difesa della costa, per la rivalità che era nata con Cartagine. Superfluo osservare che con la costruzione del grande scalo marittimo a Porto, l'odierna Fiumicino, le cose cambiarono per Fregene, ridotta ormai a poche ville patrizie, residenze con il relativo orto, che in seguito dovranno essere abbandonate causa l'insalubrità della zona. Per far fronte a tale insalubrità si dovrà arrivare al 1666, quando Papa Clemente IX dispose la piantumazione della pineta di Fregene per la difesa dei campi coltivati dai venti salmasti provenienti dal mare e per drenare i terreni acquitinosi dell'area. Dal Lido di Diana alla Fregene moderna. Il fuoco con la presenza della pineta diventa il paradiso della fauna e di conseguenza fortissimo il richiamo su chi esercita l'attività della caccia. In omaggio alla dea che vigila su questa attività si fa strada la denominazione di Litus Diane, ossia Lido di Diana. Per tutto il Medioevo e fino al 1800 Fregene si identifica con la tenuta di Maccarese di cui anticamente era l'affaccio sul mare occupandone la fascia costiera. Rinasce come città moderna quando un gruppo di costruttori del nord venuto a conoscenza della bonifica imminente decise di acquistare la pineta con i terreni che si affacciano sul mare scorporandoli dalla tenuta di Maccarese con lo scopo dichiarato di costruire sugli stessi una decolosa stazione balneare e climatica con alberghi, stabilimenti e villini. Ma le cose non andarono nel modo desiderato e la società fallì intorno al 1930 passando armi e bagagli alla Banca d'Italia con cui aveva debiti da saldare. È in questa fase che iniziano gli anni del mito in cui la vegetazione è stupenda i villini ancora pochi l'aristocrazia romana scopre Fregene e la frequenta dando il lustro e noto d'età. Più avanti, tra gli anni 50 e 60 sarà il cinema a consolidare il mito di Fregene molti cineasti vengono ad abitarvi e Federico Fellini con lo scelicco bianco del 1952 La dolce vita e Giulietta degli spiriti esporto ovunque le suggestive immagini della Pineta Fellini, Alberto Sordi e Alberto Moravia La freggena e la freggene da casting La pineta è quindi la fortuna mediatico-cinematografica di Fregene e lo scelicco bianco ecco i pini di Fregene e al centro l'altalena su cui dondola l'attore di fotoromanzi Fernando Rivoli interpretato da Alberto Sordi ed è superfluo aggiungere altro. Nasce da lì, poi, da alcune scene della dolce vita di Giulietta degli spiriti il mito felliniano di Fregene si diceva spesso nelle interviste Fellini e a Fregene che sono diventato regista l'accessivo casting della freggene anni 60, 70, 80 soprattutto al villaggio dei pescatori è davvero scintillante costruiscono, comprano o affittano casa Ettore Scola, Alberto Moravia Ivanzina, Papasteno e i figli Carlo ed Enrico Ennio Flaiano, Walter Chiari, Marcello Mastroianni Orson Welles, Lina Wertmuller, Sofia Loren e i pittori Mario Schifano e Giulio Turchato ma Fregene purtroppo non tutela tanta memoria Nel 2006 la villa dove abitarono per vent'anni Federico Fellini e Giulietta Masina in via Volska 13 è stata volgarmente demolita per fare spazio alle solite multifamiliari Poi, negli anni 1980 e 1990 tanta politica, soprattutto al ristorante Damastino vetrina di chi voleva farsi fotografare mangiando telline e pagando conti entrati nel mito della sotterrata prima repubblica fanno finire il mito di Fregene chiaramente che voleva farsi fotografare il mito di Fregene che voleva farsi fotografare il mito di Fregene